Noi dobbiamo essere tutti uniti contro il terrorismo, questo non ci piove, quello che ci serve però è confrontarci in modo concreto e soprattutto il confronto deve essere fatto in modo riservato, dove c'è un livello di scambio di informazioni che in quel contesto non si può arrivare e quindi un organismo come quello che io presiedo è la sede naturale per questo tipo di confronto.